Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA, continuiamo i gameplay di The Last of Us, mi scuso per queste assenze che sto facendo ultimamente ma il lavoro mi sta un po' facendo fare tardi e comunque anche l'estate mi fa stare fuori più tempo, vabbè dai vi lascio gustare questo gameplay, ciao ciao a tutti Dobbiamo muoverci Pfff Che facciamo? Joel! Provo io. Controllo questa zona, su, guardala tutta. Controllo questa zona, su, guardala tutta. Per un pello. Stai con me, forza. Stai con me, forza. Stai con me, forza. Merda, merda! Ok, Ellie, forza. Dietro di te. Stai con me, per un pello. Stai con me. Stai con me, per il potere. Stai con me. Grazie. 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 Sì, vieni pure! Sì, vieni pure! Sì, vieni pure! C'è un soffitto! Ricevuto, tieni la posizione e attendi l'inforzo! Ricevuto, mantengo la posizione! Fai a respirare in mezzo a questa roba! Non ti stavo mettendo! Li hai viste? No, il posto è vuoto! Io non ho visto niente! Controllo questa zona! Va a vedere di là! Dove diavolo si è cacciato? Tu! Merda! Qui non ci sono! Dai, amico! Ci sono due modi per uscirne! Coraggio, saremo fuori molto presto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Grazie. Troveremo una sull'azienda. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Pensaranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Infine tu fai quello che dico quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città... Qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.